Colleghi, buongiorno. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata oltre che mediante il resoconto stenografico anche attraverso la trasmissione diretta sulla web tv della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno recca il seguito dell'audizione davanti ai commissioni riuniti affari costituzionali e trasporti al sottosegretario di Stato alla presenza del Consiglio dei Ministri con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale Alessio Butti sullo stato di attuazione delle misure relative alla transizione digitale nell'ambito del PNRR. Saluto il Presidente Pagano e i colleghi della Commissione Affari Costituzionali bentornati nella nostra Commissione e ringrazio e ridoro il bentornato al sottosegretario Butti per la sua consueta disponibilità. Ricordo che la seduta di oggi è dedicata alle risposte del sottosegretario ai quesiti formulati dai deputati che sono stati raccolti nel fascicolo in distribuzione. Cedo quindi la parola al sottosegretario Butti. Grazie Presidente, saluto i colleghi, saluto il Presidente della Commissione Affari Costituzionali. Inizio dai quesiti dell'onorevole Pastorella a partire dalla piattaforma per la sottoscrizione delle firme per il referendum. Come noto il decreto legge 144 in corso di conversione ha attribuito a decorrere dal 1 gennaio 2024 la titolarità della piattaforma al Ministero della Giustizia. Il prototipo della piattaforma referendum è stato sviluppato nel 2021 dal Dipartimento per la trasformazione digitale ed è stato adeguato dallo stesso Dipartimento già dalla fine dello scorso mezzo di ottobre con gli interventi necessari a garantire la conformità della piattaforma alle disposizioni del decreto del Presidente e del Consiglio dei Ministri del 9 settembre 2022. Attualmente sono in corso le attività per ultimare il trasferimento della titolarità in capo al Ministero della Giustizia. Sul tema dell'ANIS, anagrafe istruzione superiore, il Regolamento europeo 2018-1724, sul quale è incentrato l'intervento del Single Digital Gateway di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca, prevede la messa a disposizione di specifiche procedure, tra cui la richiesta di riconoscimento accademico di diplomi, certificati e di altri attestati relativi a studi o corsi, la cui operatività per i soli cittadini europei è stata ottenuta qualche giorno fa, il 12 dicembre 2023. Circa il progetto POLIS, al momento non è prevista l'estensione del progetto che, desidero però ricordare, è espressamente destinato alla realizzazione di uno sportello unico di prossimità che assicuri ai cittadini residenti nei comuni più piccoli la possibilità di fruire di tutti i servizi pubblici in modalità digitale per il tramite di un unico punto di accesso alla piattaforma di servizio multicanale di poste italiane. Ricordo in ogni caso che questo Governo appoggia fortemente la riduzione e la razionalizzazione dei certificati nel solco del principio once only nei confronti dei cittadini, agendo dunque sul piano della produzione e della gestione dei dati con diverse iniziative, tra cui la realizzazione della piena interoperabilità delle basi dati delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, in particolare mediante i servizi resi fruibili dalla piattaforma digitale nazionale dati. Inoltre, sempre nell'ottica di supportare le anagrafi pubbliche che soffrono di carenza di personale, lo scorso 11 dicembre è stato attivato il servizio per consentire agli avvocati di richiedere e di ottenere certificati anagrafici direttamente online dal portale ANPR. Si tratta di un servizio che punta non soltanto a semplificare l'accesso ai dati anagrafici per velocizzare l'attività professionale degli avvocati, ma anche ad alleggerire i comuni dalle numerose richieste dello sportello. Era una delle richieste più importanti di ANCI, peraltro. Mi è stato chiesto un aggiornamento anche sul progetto IT Wallet. Il progetto è ovviamente in fase di elaborazione e prevede due soluzioni di portafoglio digitale. La prima è relativa a un portafoglio pubblico, la seconda invece è relativa a un portafoglio digitale privato. Entrambe le tipologie si baseranno sui medesimi standard e protocolli tecnologici per garantire l'interoperabilità dei diversi portafogli di identità e per fornire ai cittadini le stesse garanzie e gli stessi standard di sicurezza. La soluzione di IT Wallet pubblico sarà resa disponibile mediante l'app IO e il punto di accesso telematico previsto dall'articolo 64 bis del codice dell'amministrazione digitale. È stato già ultimato il prototipo concettuale per valutare in fase predecisionale la potenzialità di sviluppo attraverso la cooperazione tra il mio dipartimento, Pago.pia e il poligrafico Zecca dello Stato. Nel progetto sono anche coinvolte le amministrazioni che stanno fornendo i dati per le prime attestazioni elettroniche che saranno disponibili nel Wallet, cioè la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità. Siamo sostanzialmente in linea con il piano iniziale e contiamo di poter consegnare il Wallet ai cittadini nel prossimo anno. Sempre in tema di Wallet il lavoro avviato in ambito nazionale ci consente di essere propositivi anche in ambito europeo dove partecipiamo a due progetti di sperimentazione e collaboriamo con alcuni Stati membri a progetti che mirano a garantire l'interoperabilità delle diverse soluzioni nazionali. In merito al tema dell'intelligenza artificiale la posizione del Governo è stata da subito quella di favorire una regolamentazione chiara e dotata di un adeguato impianto sanzionatorio. Tale posizione è stata confermata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e da ultimo nel Comitato interministeriale per la transizione digitale del 9 novembre ultimo scorso e dal sottoscritto in sede di Unione Europea. Questo approccio è fondamentale per garantire l'innovazione e che l'innovazione proceda nel rispetto dei diritti fondamentali e dei valori etici consolidando così il ruolo guida dell'Italia e dell'Europa nella regolamentazione dell'intelligenza artificiale a livello globale. Quanto al quesito posto dall'Onorevole Ascani sulle infrastrutture di connessione inizio da una precisazione. Il dato da me riportato in audizione cioè quel 9 per cento dei civici collegati è riferito allo stato di avanzamento dei lavori alla data del 31 ottobre 2023. Questo stato di avanzamento viene aggiornato a cadenza mensile e per questo motivo il dato relativo al 31 dicembre 2023 sarà disponibile a fine gennaio 2024. Ciò premesso occorre chiarire che i ritardi accumulati rispetto alle scadenze indicate nel PNRR sono una direttissima conseguenza ed evidente conseguenza delle decisioni prese dal Governo che ci ha preceduti rispetto alla quale siamo intervenuti tempestinamente nei modi che ho illustrato in audizione. Ad esempio aggiornando parti della strategia nazionale e adottando tutta una serie di iniziative per l'accelerazione delle attività in corso al fine di ridurre i ritardi che si andavano registrando. Aggiungo che consapevoli di questa criticità abbiamo intensificato il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori rispetto ai quali si registrano segnali di un timido incremento della velocità di esecuzione da parte degli operatori beneficiari team e open fiber. In ogni caso confermo che i contratti in corso di esecuzione prevedono un meccanismo di penalizzazione applicabile agli operatori beneficiari nel caso in cui questi ultimi non rispettino le milestone di gara. In particolare nel caso di mancato raggiungimento di ciascuna milestone intermedia o finale sarà applicata una penale nella forma di riduzione del contributo pubblico dovuto proporzionale al numero di civici non collegati entro il termine previsto dalla milestone in questione. Nell'ottica di non penalizzare gli operatori di mercato la riduzione del contributo può essere annullata qualora il beneficiario recuperi il ritardo accumulato entro le due milestone successive ovvero entro un anno dalla data di scadenza della milestone ad esempio la penale sulla prima milestone intermedia non rispettata che prevedeva il collegamento al 31 dicembre 2022 dell'1% dei civici sarà annullata in quanto ciascun beneficiario ha recuperato il ritardo entro il 31 dicembre 2023. Vengo al tema della carenza di professionisti da impiegare nelle esecuzioni del piano questa è una delle priorità dell'azione del dipartimento anche qui giova a ricordare il fallimento dei tentativi promossi dall'esecutivo in carica prima di noi attualmente il dipartimento per la trasformazione digitale sta realizzando una serie di azioni per accelerare la realizzazione dei lavori la prima si è concretizzata nella stipula maggio 2023 di protocolli di intesa tra il dipartimento il soggetto attuatore che è infratel gli operatori beneficiari e gli ordini professionali interessati architetti ingegneri geometri e periti industriali che hanno di fatto contribuito a colmare il gap dei professionisti impegnati nelle progettazioni la seconda l'abbiamo attuata attraverso protocollo sottoscritto con ance in sardegna e con anie nel luglio del 2023 che sta facilitando l'incontro tra la domanda e l'offerta sul territorio sardo individuando e localizzando i volumi di lavoro previsti e le risorse disponibili in termini di manodopera e di strumenti la terza con la stipula di un protocollo d'intesa per il dipartimento soggetto attuatore infratel e anci sempre nel mese di luglio ultimo scorso per agevolare il rilascio dei permessi da parte degli enti locali che aderiranno ad una pianificazione preventiva delle lavorazioni consentendo una migliore programmazione dei lavori stessi la quarta con l'adozione da parte mia della direttiva del 2 novembre ultimo scorso concernente linee di azione nei procedimenti amministrativi in materia di realizzazione di reti pubbliche di comunicazioni relative agli interventi da realizzare per l'attuazione del pnr sempre al fine di accelerare la realizzazione dei lavori e rilascio dei relativi permessi in relazione alla mancata autorizzazione da parte della commissione europea l'utilizzo dei risparmi sui progetti legati a italia un giga e 5 g vorrei precisare se del caso anche ribadire che il fallimento delle gare è una responsabilità storicamente ascrivibile dal governo precedente che le ha gestite in modo evidentemente superficiale anche con riferimento alla quantificazione dei finanziamenti necessari conseguendo cospicue economie all'esito delle gare che abbiamo cercato di utilizzare fino all'ultimo per l'implementazione di ulteriori misure strategiche per la crescita del settore proseguo affrontando le questioni poste dall'onorevole caso sulla sicurezza cibernetica e sull'esigenza di innalzare il livello di guardia della difesa cyber del nostro paese al riguardo ci tengo a ribadire che la sicurezza cibernetica rappresenta la massima priorità dell'azione di questo governo e grazie ai fondi del pnr e la proficua collaborazione con acn si stanno attuando numerose iniziative in tal senso ritengo necessario partire però da una considerazione rispetto allo stato delle infrastrutture digitali del paese come ricorderete nel 2020 l'agenzia per l'italia digitale pubblicò una relazione in esito al censimento del patrimonio ICT della pubblica amministrazione che evidenziava come il 95 per cento delle infrastrutture avessero notevoli carenze rispetto ai livelli minimi di sicurezza successivamente sono state pubblicate nel 2021 nel 2022 rispettivamente i documenti di indirizzo strategico strategia cloud italia e strategia nazionale di cyber sicurezza 2022 2026 l'attuazione della strategia cloud italia prevede la migrazione dei data center privi privi dei requisiti di sicurezza verso altre infrastrutture e soluzioni cloud sicure e verificate dall'agenzia per la cyber sicurezza nazionale entro il 30 giugno 2026 la strategia nazionale di cyber sicurezza 2022 2026 prevede il raggiungimento di 82 misure di sicurezza entro il 2026 il quadro appena delineato porta dunque ad una considerazione e cioè che sono state avviate numerose iniziative per potenziare le difese cyber rese possibili anche grazie al pnrr ma che la complessità degli interventi richiede necessariamente delle tempistiche adeguate al raggiungimento delle sfide poste dal processo di trasformazione digitale del paese quanto invece agli adempimenti collegati al conseguimento della milestone connesse alla riforma 1.2 sono stati positivamente consuntivati a valutati dei servizi della commissione europea vengo alla 3i spa rispetto alla quale la presidenza del consiglio dei ministri insieme al ministro del lavoro e delle politiche sociali esercita come sapete il controllo ebbene l'articolo 28 del decreto legge 36 del 22 stabilisce che affinché la società possa assolvere pienamente i propri compiti è necessario perfezionare le procedure di conferimento di taluni beni immobili di proprietà degli istituti soci degli strumenti dei mezzi degli apparati e delle infrastrutture informatiche oggetto di gestione oltre che dei relativi contratti relativi alla fornitura scusate la ripetizione dei servizi informatici tali procedure sono attualmente in corso unitamente all'individuazione del personale al fine di avviare il rapporto di servizio della società con gli istituti e con le amministrazioni che esercitano il controllo analogo attraverso un apposito contratto di servizio nel quale saranno fissati la data di avvio dei servizi i contenuti e i livelli delle prestazioni conformemente agli atti di indirizzo strategico che saranno approvati dal consiglio di amministrazione in relazione all'utilizzo di send segnalo che ad oggi la piattaforma seppur attiva e a disposizione degli enti non è obbligatoria un tema importante è stato sollevato dall'onorevole Iaria e riguarda l'identità digitale il sistema speed ha rappresentato un importante strumento per consentire ai cittadini l'uso di servizi digitali erogati dalla pubblica amministrazione e da diversi soggetti privati oltre alla mancanza di un modello di remunerazione per il quale questo governo unico esecutivo ad averlo finanziariamente sostenuto ha stanziato 40 milioni di euro sui fondi PNRR però esistono evidentemente delle criticità di sicurezza numerose frodi riguardano la generazione di identità speed false come è possibile desumere dalle sanzioni irrogate da Agid che vigila sul sistema queste sono le motivazioni alla base della scelta del governo già nel dicembre dell'anno scorso come ricorderete di realizzare un'unica identità digitale nazionale basata sulla CIE che è emessa direttamente dallo Stato e che garantisce livelli di sicurezza ben superiore ad ogni altro strumento di identità digitale. Nella puntata di report del 3 di dicembre ultimo scorso è stata denunciata una falla nel sistema speed che ha consentito la generazione di un'identità non regolare come probabilmente avvenuto per truffare alcuni diciottenni in relazione al bonus cultura tra le criticità di sicurezza vi è la mancanza di un meccanismo di notifica in caso di attivazione di una nuova identità speed e la stessa possibilità di generare più identità speed cosa che non è possibile come ripeto da un anno con la CIE che è a tutti gli effetti un valido documento di identità. Con riferimento al tema del cloud federati e del PSN inizierei precisando che veniamo da una gestione a dir poco disastrosa conseguenza purtroppo scontata di un mix di gravi lacune di visione e di una pericolosissima leggerezza nell'affrontare temi così complessi e delicati. Proprio per questo motivo sin dall'inizio del mandato ho condiviso la necessità di cambiare drasticamente rotta dando massima attenzione alle migliori infrastrutture pubbliche che devono essere valorizzate in complementarietà all'infrastruttura del polo strategico nazionale. A tal fine come riferivo nel mio intervento per quanto riguarda le ASL e le aziende ospedaliere si è adottato su mia convinta indicazione una nuova strategia che possiamo definire di cloud federato. Al polo strategico nazionale sono stati cioè affiancati i data center regionali per le regioni che hanno intrapreso il percorso di adeguamento delle proprie infrastrutture per ospitare i dati critici come da regolamento ACN. Per questo alle ASL e alle aziende ospedaliere è stata offerta l'opportunità di decidere la destinazione dei propri servizi tra il PSN e i cloud regionali. Tale scelta strategica si è dimostrata in linea con le aspettative dei nostri territori. 130 ASL hanno infatti scelto di portare almeno parte dei propri servizi presso il polo strategico nazionale. Con riferimento al tema della predisposizione del piano dei fabbisogni le amministrazioni non sono lasciate da sole in questa attività. Infatti pur rimanendo in capo alle amministrazioni le responsabilità di definire i propri piani queste possono avvalersi della facoltà di richiedere un supporto a professionisti tecnici del transformation office del dipartimento per la trasformazione digitale e della società polo strategico nazionale. Con riferimento alla possibile vendita come si apprende da notizie di stampa di alcune quote societarie di team al fondo KKR e al possibile impatto anche sulla proprietà della società di progetto polo strategico nazionale SPA vorrei rassicurare che il governo dispone di tutti gli strumenti di legge per impedire che i nostri dati pubblici finiscano in mano ad un soggetto privato estero. Saranno, ove fosse necessario, assunte tutte le decisioni di concerto con l'Agenzia per la Cyber Sicurezza Nazionale e i competenti di Casteri atte a impedire un grave pregiudizio per gli interessi essenziali dello Stato, della difesa e della sicurezza nazionale. Un punto importante è quello della sanità connessa. La complessità del piano sanità connessa ha chiesto che fosse inizialmente messo a punto il processo di interlocuzione tra tutti gli stakeholder coinvolti per la definizione, l'approvazione e la corretta canalizzazione dei fabbisogni di connettività delle strutture sanitarie oggetto di intervento anche al fine di proporre soluzioni tecnologiche pienamente condivise e completamente rispondenti a tali fabbisogni. Il processo vede coinvolti i gruppi di lavoro nominati dalle regioni e dalle province autonome, i direttori delle aziende sanitarie, i team tecnici di ciascuna struttura sanitaria interessati, il nostro Dipartimento, il soggetto attuatore e gli operatori aggiudicatari in un flusso che considera le necessità che partono dal basso. Questa fase di vitale importanza per un corretto impiego delle risorse ha determinato alcuni ritardi nella fase esecutiva che ora si stanno superando. Ad oggi risultano già attivate 90 strutture sanitarie mentre sono in corso le attività realizzativa in 1.233 strutture e per 1.816 ulteriori strutture si stanno predisponendo i relativi progetti. Premesso che il piano sanità connessa non contempla la presenza di milestone e di target intermedi di gara, questi dati di avanzamento risultano ad oggi in linea con il raggiungimento della milestone finale del 30 giugno 2026. Passo quindi a trattare i temi oggetto dei quesiti presentati dal gruppo parlamentare della Lega. Per il lavoro del Digital Technology Working Group il Dipartimento della Trasformazione Digitale ha elaborato due temi, intelligenza artificiale e digital public infrastructure. In aggiunta a quanto già detto in precedenza posso dire che la presidenza italiana sarà impegnata per un uso etico dell'intelligenza artificiale, inclusa quella generativa e interattiva, facendo leva sulla raccomandazione del Consiglio dell'Ocse sull'intelligenza artificiale del 2019, sulla raccomandazione sull'etica dell'intelligenza artificiale dell'UNESCO del 2021, adottati durante la presidenza del Giappone del G7 nel 2023 e sul lavoro dell'Ocse sulla gestione dell'intelligenza artificiale nel settore pubblico. Il G7 Digital and Technology Working Group produrrà un'analisi finalizzata all'identificazione di modalità atte a trasformare i principi etici in politiche attuabili, con particolare attenzione all'applicazione delle AI nel settore pubblico. Per quanto riguarda il tema infrastruttura pubblica digitale, lavoreremo per una solida infrastruttura pubblica digitale che assicuri un successo semplice, conveniente e sicuro ai servizi essenziali, promuova la resilienza e la sovranità digitale, garantisca l'inclusione di tutti, compresi i gruppi vulnerabili e le minoranze. Nel periodo di presidenza italiana proporremo di elaborare un toolkit che in base all'identificazione di casi d'uso di successo possa individuare gli elementi essenziali dell'infrastruttura pubblica digitale interoperabile e affidabile per consentire un'offerta e un accesso efficiente, inclusivo e sicuro ai servizi pubblici digitali in conformità con i valori condivisi dal G7. In tema del quantum computing è prevalentemente di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca. Nell'ambito della redazione della tabella di marcia strategica nazionale per il decennio digitale europeo, l'Italia ha formulato la traiettoria dell'indicatore relativo al quantum computing dal 2023 fino al 2030, individuando le iniziative che guideranno l'andamento crescente del numero di computer e dei calcoli quantistici nel nostro Paese. In particolare è previsto lo sviluppo di un centro di competenza sul dominio tecnologico del quantum computing nel contesto della componente 2 della missione 4 del PNRR che stanza complessivamente 320 milioni di euro di risorse gestite dal Ministero dell'Università e della Ricerca. In questo rilevante programma sono coinvolti importanti hub della ricerca italiana come l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il Consorzio che fornisce servizi di supercalcolo alla comunità scientifica accademica nazionale. L'Italia riserva quindi al quantum computing un'importanza strategica e obiettivo di ulteriori futuri investimenti in quanto mutuamente connesso con le tematiche di raccolta e di analisi dei dati di interesse per la ricerca, per il sistema produttivo e per il contesto sociale del Paese, abilitante anche di innovazioni in molteplici campi, dalla ricerca di base ai modelli climatici, dallo space economy all'epidemiologia, dalle tecnologie dei materiali all'intelligenza artificiale. Ricordo che il decennio digitale rappresenta un quadro strategico che guiderà le azioni continentali relative al digitale con l'obiettivo di garantire che tutti gli aspetti dell'innovazione siano a favore del cittadino creando un ecosistema che assicuri la presenza delle competenze necessarie per sfruttare la potenzialità delle nuove tecnologie. Arrivo al progetto, e siamo quasi alla fine, di un fondo di venture capital che è in fase avanzata di sviluppo e vede coinvolti il Dipartimento, l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale e ovviamente CDP. Si tratta di uno strumento finanziario indirizzato alle start-up e alle PMI innovative attive nel comparto italiano dell'intelligenza artificiale con la cyber security intesa come driver tecnologico trasversale. Sono al momento in corso le attività tecnico-amministrative strumentali alla Costituzione del Fondo e la sua entrata in esercizio è prevista nel corso del primo semestre del 2024. Gli interventi del Fondo sulle soluzioni qualificate per la pubblica amministrazione e sull'AI generativa saranno a beneficio sia delle aziende che intenderanno sperimentare nuove iniziative e sia di quelle che intenderanno potenziare la propria presenza sul mercato. Intendiamo inoltre coinvolgere questa realtà non soltanto sul piano dell'erogazione di risorse finanziarie ma anche attraverso la promozione del networking tra imprese, pubblica amministrazione e mondo della ricerca. In quest'ottica la partecipazione del Fondo di Cassa Depositi e Prestiti ci consentirà di perfezionare azioni di impulso sull'AI che in coerenza con le regole stabilite a livello europeo nel contesto dell'AI Act siano inserite in una strategia industriale progettata per incentivare le specializzazioni e le creatività italiane. Il nostro Paese infatti può essere un protagonista nello sviluppo di tecnologie generative basate sull'intelligenza artificiale. Il tessuto nazionale composto da start-up, PMI, innovative, università e aziende ICT rappresenta una combinazione quasi unica nel panorama continentale con potenzialità che intendiamo esplorare e stimolare per favorire l'immersione di quelle tecnologie che dimostrano caratteristiche promettenti. Infine, in merito all'erogazione dei fondi PNRR per gli enti locali evidenzio che le misure di digitalizzazione previste dal PNRR prevedono voucher predefiniti erogati in seguito alla verifica del risultato raggiunto. La verifica del corretto raggiungimento del risultato è quindi cruciale perché si possa proseguire la possibilità di erogazione del finanziamento. Per questo motivo sono state predisposte e vengono progressivamente aggiornate e accurate procedure di verifica tecnica e amministrativa. I tempi di collaudo tecnico stanno progressivamente diminuendo in seguito al miglioramento della qualità dei progetti presentati e alla definizione sempre più precisa delle procedure di collaudo. Anche in questa fase i tempi di controllo stanno progressivamente diminuendo, sono state pubblicate accurate linee guida per i soggetti attuatori per definire con la massima precisione la documentazione necessaria anche basandosi sull'esperienza dei progetti verificati in questi mesi che mostravano alcuni errori ricorrenti. In conclusione ritengo che il lavoro fatto in questi mesi nell'esaminare oltre 13.500 progetti abbia consentito di migliorare tanto la qualità dei progetti presentati quanto le procedure di verifica tecnica e amministrativa definendo una traiettoria di diminuzione dei tempi di verifica che contiamo possa proseguire anche in futuro. Da ultimo tengo a ringraziare l'Onorevole Longi per aver portato l'attenzione su un tema a me particolarmente caro, da pronta e piena realizzazione degli interventi per le infrastrutture di rete, motore indiscusso della digitalizzazione del nostro Paese. La direttiva a cui l'Onorevole fa riferimento e di cui ho fatto cenno in precedenza è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Si tratta di un atto che ho fortemente voluto e che rappresenta il necessario punto di raccordo tra le diverse semplificazioni già vigenti e un atteggiamento talvolta conservativo degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni che, seppur costantemente delegittimato dalla giustizia amministrativa, rischia di ritardare i procedimenti con tutto ciò che ne consegue. Per questa ragione, sin dalla via del mio incarico, ho sempre tenuto a favorire la massima collaborazione istituzionale, dapprima con la stipula del protocollo con l'Anci e poi con gli accordi con le associazioni di categoria e le imprese che stanno affrontando la realizzazione degli interventi nei contesti più sfidanti. Sono certo che in un contesto di ascolto, impegno e collaborazione riusciremo, recuperati i ritardi, a raggiungere con soddisfazione tutti gli obiettivi. Grazie. Grazie, Sottosegretario. Grazie anche per aver risposto a tutte le domande. Mi faccio portavoce di una richiesta dei colleghi, se è possibile poi inviare anche, poi riscritto queste risposte, ci pensare anche se ce le inviare la Commissione, tramite le commissioni. Poi non so se il mio collega vuole intervenire, quindi la ringrazio. Grazie anche per la sua disponibilità, tornare sugli argomenti che i colleghi riterranno. Grazie mille. Quello è il Presidente Muret. Grazie mille. Grazie mille, Sottosegretario.